Aveva nascosto ben 18 ovuli di cocaina nel motore dell'auto, ma è stato intercettato ed arrestato dai carabinieri in manette un cittadino straniero senza fissa dimora. È successo a Cortona. L'uomo si trovava a bordo di una Fiat Panda intestata ad una ditta di autonoreggio quando è stato fermato e controllato dai militari, insospettiti dalla sua anomala presenza in quel territorio e dal suo comportamento nervoso. Così è scattata la perquisizione personale e veicolare. Dal vano motore dell'auto sono saltati fuori 18 grammi di cocaina già suddivisa in involucri di cellophane trasparente occultati in un sacchetto. I carabinieri hanno trovato anche 440 euro in contanti ritenuti provento dell'attività di spaccio. Drogue e denaro sono stati sottoposti al sequestro penale. L'uomo, dopo la convalida dell'arresto, è stato liberato in attesa del processo come disposto dall'autorità giudiziaria.